La quinta vittoria consecutiva del Taranto che aggancia il team Altamura in quarta posizione nel girone H del campionato di Serie D, la terza sconfitta consecutiva di un Cerignola che ci mette cuore e carattere, ma che al tempo stesso torna a casa senza punti e dice addio probabilmente in maniera definitiva alla lotta per la promozione diretta tra i professionisti. Avaro di soddisfazioni da questo punto di vista dunque il ritorno degli Ofantini allo Iacovone a distanza di 17 anni dall'ultimo precedente. Primo tempo senza reti e con pochissime emozioni l'undici di Teore Grimaldi squalificato e sostituito in panchina dal suo vice Vincenzo Silvestri si fa notare prima con Carannante intorno al quarto d'ora e poi con Morra a metà frazione ma senza effetti positivi la ripresa invece si apre col botto per il Cerignola che passa in vantaggio dopo sei minuti. Dialogo tra Morra e Longo con quest'ultimo che trova il guizzo che modifica la forma e la sostanza del punteggio. Morra prima dell'ora di gioco fallisce poi un rigore in movimento su suggerimento di Cappellari. Cerignola ad un passo dal raddoppio si salva e reagisce il Taranto che centra una clamorosa traversa con Marsili direttamente su calcio di punizione il gol del pareggio. In ogni caso arriva pochi minuti dopo e lo realizza Favetta per gli Ionici. Gara aperta a qualsiasi soluzione finale non si accontentano gli ospiti ma a 17 minuti dallo scadere sono i padroni di casa a trovare il punto del definitivo sorpasso con il neo entrato di Achite. Il Cerignola cerca l'arrembaggio conclusivo con gli ingressi in campo di Lozada, Luca Rosso e Marinaro ma il risultato non cambia più sino al triplice fischio per la gioia di Tarantini e per l'amarezza e i rimpianti degli Ofantini.